Farina di quinoa, proprietà e benefici La farina di quinoa è il prodotto della macinazione dei semi essiccati della chenopodium Quinoa è una pianta erbacea originaria delle Ande. La pianta appartiene alla famiglia delle chenopodiacee, come spinaci e barbabietole. L'uso della quinoa, in semi o come farina, risale ai tempi degli Inca, che ne riconoscevano anche il valore nutrizionale, infatti era descritta come la madre di tutti i semi. La coltivazione della pianta e la sua importanza sono universalmente riconosciute, l'ONU ha dichiarato il 2013 anno internazionale della quinoa, in quanto questo pseudo cereale può avere, per caratteristiche nutrizionali e commerciali, un ruolo importante nella risoluzione dei problemi legati a fame e malnutrizione nel mondo. Vediamo quali sono le caratteristiche nutrizionali della farina di quinoa, i benefici e una ricetta per utilizzarla. La farina di quinoa, cos'è quinoa quinoa via pixabay? La farina di quinoa è un alimento che, come detto, si ottiene dalla macinazione dei semi essiccati. Questi ultimi devono prima essere sottoposti a un lungo lavaggio, in quanto sono naturalmente ricoperti da uno strato di saponine. Queste, oltre a sere amare al gusto, sono irritanti per le mucose e, in elevate quantità, tossiche per l'apparato gastrointestinale e respiratorio. La farina di quinoa è priva di glutine e questa caratteristica la rende utile per la preparazione di alimenti privi di questo elemento, purché non si tratti di dolci o panificati che necessitino di lievitazione. In altre parole è utile per preparare piadine, grissini o biscotti. In cucina la farina di quinoa è un ingrediente che potrebbe essere sempre sostituito a parte della farina di frumento, anche nella preparazione di pasta fresca o crostate. Questo accorgimento aumenta l'apporto di fibre dall'alimento preparato, a tutto beneficio della salute. Caratteristiche nutrizionali La farina di quinoa è piuttosto calorica. Una porzione da 100 g contiene circa 350 cal, apportate per la maggior parte dai carboidrati che ne costituiscono circa il 60% del peso. Grassi e carboidrati ne rappresentano il 6% e il 14% del peso rispettivamente. La frazione proteica della farina di quinoa è di buona qualità biologica ed è interessante soprattutto per il buon contenuto di lisina. Buona è anche la concentrazione di sali minerali, soprattutto ferro, calcio, magnesio e fosforo, e di fibra alimentare, che ne rappresenta il 6% del peso circa. Il buon apporto di fibre rende la farina di quinoa un alimento utile per il mantenimento delle corrette funzionalità intestinali e per il controllo dell'indice glicemico del pasto. I biscotti con la farina di quinoa Mescolate bene con l'aiuto di una forchetta qui di unite il latte. Impastate bene quindi formate la classica palla di pasta e fatela riposare in frigo per almeno 30 minuti. Riprendete l'impasto e ricavatene con le mani delle palline e disponetele su una teglia da forno antiaderente ben distanziate. Cuocete in forno caldo a 180 gradoci per 15 minuti circa.